A Sammo Staff ha vinto l'Orlando Pro 2022, quindi doppietta dopo la vittoria al Puerto Rico Pro Devo dire che una Sammo Staff ha decisamente migliorato rispetto all'anno scorso Ha faticato a mantenere la condizione, la definizione, quindi ottima prestazione E questi sono i risultati A Sammo Staff ha primo, Andrea Presti secondo, terzo, Fink Lahar, quarto, Max Schwarz Anche lui mi sembra migliorato rispetto a queste ultime operizioni E quinto, Tony Burton e poi gli altri li vedete da soli Poi vi metto come sempre la scorecard che potete controllare dopo aver messo in pausa il video Comunque punteggio pieno per Sammo Staff, vittoria all'unanimità E anche secondo posto all'unanimità per Andrea Presti Poi guardatevi tranquillamente i risultati Vi dico già che farò un video a parte su Presti Quindi parlerò un po' in maniera generale di questa gara Devo dire che la vittoria di Mostafa è strameritata Mi è sembrato anche superiore rispetto al Puerto Rico Pro Che ha vinto due settimane fa Se non sbaglio E come avevo già detto nell'altro video L'anno scorso aveva gareggiato molto In ogni gara risultava peggiorato rispetto a quella precedente Per quanto riguarda la definizione Invece ha portato un'ottima definizione Abbinata ad un'ottima massa Per quanto riguarda anche la sua altezza E anche un'ottima densità muscolare Poi ha alcune pose davvero buone Tipo il back double bicep, il back lat spread Le gambe sono decisamente nobili Contando che quest'anno ha una buona definizione Perché l'anno scorso, mi ricordo Se vi ricordate i miei video L'anno scorso dicevo che aveva delle gambe troppo grosse Però il problema non erano tanto le gambe grosse Il problema era la mancanza di definizione Che quindi le faceva sembrare ancora più grosse Senza tagli E tutte queste cose qui Quindi Ottima vittoria per Mostafa Che avrebbe anche potuto non partecipare All'Orlando Pro Perché è già qualificato per l'Olimpia E magari questa cosa può dar fastidio A gente tipo Presti Che è arrivato al secondo Però secondo me ci sta Che un bodybuilder gareggi il più possibile Prima del mistero Olimpia Cioè Posso capire che possa dar fastidio E non sto dicendo che Presti dia fastidio Però posso capire che possa dar fastidio Che un vincitore di una gara Già qualificato al mistero Olimpia Partecipi Perché uno dice Minca Avrei potuto vincere Mi sei potuto qualificare Però secondo me è giusto Gareggiare il più possibile Se uno ce la fa Far vedere Che Le vittorie Sono frutto di qualcosa E non botte di culo Non è il suo caso Però magari può capitare Quindi Arrivare a Mr. Olimpia Con due vittorie È sicuramente Più nobile Che arrivarci con una vittoria Puoi sparire Questo sto dicendo Poi per quanto riguarda Presti Secondo me È un'ottima prestazione Viene da Un'ottima Sede di gare Cioè Secondo A New York Settimo posto Che Secondo me è stata Una ladrata Colossale E vi rimando al video Presti Derubato Mi pare che si chiami Dove parlo Del suo settimo posto Dal Cali Pro E poi Il secondo posto Qui Cioè Secondo me Sarebbe potuto essere Una stagione Ancora migliore E penso che lo sarà Visto che adesso Garegerà In Portogallo Però Quel settimo posto Molto sospetto È un po' Brutto Mettiamola così Perché È un settimo posto Che non è un settimo posto C'è qualcosa che Che non torna Come dire Un mio amico C'è qual quadra Che non cosa Quindi Buona prestazione Di Presti Il problema Tra virgolette Di Presti È che Gareggiando così tanto Non ha abbastanza tempo Per far crescere Le gambe Quindi c'è La gente che dice Le gambe di Presti Le gambe di Presti Certo che se uno gareggia Tre volte In un mese e mezzo Non è che possa Fare miracoli Per le gambe Il discorso è quello Quindi se Probabilmente Vincesse O si qualificasse Al mistero Olimpia Avrebbe più tempo Per farle crescere Probabilmente gli serviva Un off-season lunga Per farle crescere Ancora di più Però ci sono già Dei miglioramenti E un'ottima condizione Secondo me Forse anche Migliorato Rispetto all'ultima Sua apparizione Però Questo è quello Che conta Cioè la consistenza Nella condizione Nella condizione Che viene portata Alle gare Cioè Non essere Altalenante Un giorno bene Un giorno male Un giorno così così Invece Presti Lineare Nelle sue Apparizioni Quindi adesso Vedremo un po' Che combinerà Ad Estoril Penso che Farà sicuramente bene Poi come detto Probabilmente farò un video I prossimi giorni Parlando di questa sua Prestazione Ad Orlando Buona? Buona